eccoci qua ragazzi bella a tutti allora sempre fallout 4 dlc contraption andiamo a vedere il trofeo esilizionista dettagli esponi un'arma un'armatura e un'armatura atomica sui rispettivi espositori allora espositori che li troviamo sotto decorazioni che te l'officina decorazioni proprio il primo che vi capita lì allora andiamo a mettere l'espositore per armature potete scegliere maschile o femminile dipendenza del sesso il personaggio ok per armature è a posto l'espositore per espositori non vi serve per il trofeo non conta espositore per l'armatura atomica andiamo metterlo su qua mettiamolo lì perfetto e poi un'arma è l'espositore per per armi mettiamo qua così facciamo il trio tutto lì voilà perfetto allora iniziamo mettiamo l'armatura atomica eh no eh non dime che sono incastrato qua eh sì allora chiediamolo un pochino più avanti è stato stretto eh qua ok allora vediamo un po' interagisci ok perfetto me l'ha messa lì perfetto adesso qua trasferisci espositore per armi pesanti eh ragazzi mettiamo Fatman ok ok allora lì bello e poi l'espositore per armature allora io ho scaricato tutti i materiali ho preso solo questa vesti logore semplici del figlio dell'atomo allora mettiamo là selezioniamo equipaggio vado lì perfetto trofeo preso ragazzi eh 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 bella tutto lì voilà il trio è via a posto tutto qui ragazzi ci vediamo prossimamente con nuovi video l'altro gioco eccetera eccetera grazie a tutti ragazzi alla prossima bella a tutti